Ben trovati amici del centro meteo italiano. Una vasta perturbazione in arrivo dall'Atlantico è sempre più vicina all'Italia, con le prime precipitazioni che già giovedì 29 marzo interesseranno soprattutto il nord Italia. Qui i fenomeni più intensi si concentreranno sulla Liguria di Levante, come su Alpi e Prealpi, con neve fino a 1400-1800 metri. Venerdì il maltempo si farà ancora più intenso, estendendosi anche al versante tirrenico centrale. Rovesci e locali temporali sono attesi quindi sempre sulle regioni settentrionali, ma pure su Lazio e Toscana. Non mancherà qualche pioggia, pure su Sardegna e Campania. La neve cadrà sui rilievi a quote man mano più basse, fingendosi poi sabato 31 marzo fino anche a 1100-1200 metri su Alpi e Appennini centrosettentrionali. Questa perturbazione infatti insisterà sull'Italia nella prima parte del weekend, con fenomeni localmente forti fin sulle regioni meridionali. Per conoscere invece le ultime tendenze per Pasqua e Pasquetta sulla nostra penisola, vi rimandiamo al video dedicato che potete trovare sulla nostra pagina YouTube, insieme a tutte le previsioni per i prossimi giorni. Un saluto da parte del Centro Metitaliano!